I roditori si nascondono ovunque nelle nostre città e nelle nostre comunità. La loro presenza è sgradevole e potrebbe causare numerosi problemi alle vostre attività, distruggendo materiali, prodotti, attrezzature e provocando seri danni di immagine, di reputazione e di profitti. La legislazione è sempre più restrittiva riguardo l'uso di prodotti chimici e i roditori stanno diventando sempre più resistenti ai metodi di disinfestazione tradizionali. Per combattere il problema dei roditori è necessaria una soluzione innovativa ed efficace. La soluzione è Anti-Simex Smart, la nuova soluzione amica dell'ambiente che utilizza trappole tecnologiche di ultima generazione, sensori e telecamere per il controllo dei roditori. Il servizio di Anti-Simex Smart è suddiviso in quattro fasi. Il personale Anti-Simex effettua un accurato sopralluogo dei locali per valutare la situazione. Successivamente, sulla base di quanto rilevato, viene studiato un progetto di controllo specifico per le esigenze della vostra azienda. Il piano viene poi implementato attraverso l'installazione dei dispositivi e verificandone il corretto funzionamento. Anti-Simex Smart dispone di diversi strumenti di controllo digitali, fra cui sensori e telecamere, per soddisfare ogni tipo di esigenza o necessità. Questi possono essere collocati sia negli ambienti interni che esterni. Quando un roditore entra nella trappola, il sensore ne rileva la presenza e attiva il segnale per la cattura. Anti-Simex monitora l'attività dei roditori ed è in grado di intervenire rapidamente, grazie agli allarmi e segnali che riceve dai dispositivi in tempo reale. Anti-Simex fornisce regolari report sulla base dei dati raccolti. Questo è un ottimo strumento per monitorare l'efficacia del servizio e, quando necessarie, apportare modifiche al programma di intervento. Con Anti-Simex Smart avrete a disposizione una soluzione su misura per le vostre esigenze, amica dell'ambiente e sempre in azione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Contattaci per prenotare una visita gratuita dei nostri esperti e valutare con loro la migliore soluzione per la tua azienda. Anti-Simex Smart, la migliore soluzione sul mercato del PES Control.